Un atto vandalico di violenza ambientale, di inciviltà. Questi piccoli angoli di paradiso sono stati trasformati in un inferno inquinato. Siamo nelle oasi silenziose abitate dall'Icicale, lungo il fiume Tribolo a Torri di Quartesolo. E proprio in due punti di questa zona è stato lanciato questo materiale. Sono rotoli di confezioni che vengono usate dall'industria per confezionare i prodotti. Ci sono vari tipi di materiali, sono soprattutto degli accoppiati, carta alluminio o plastica alluminio. Sul posto è intervenuta la polizia locale. Qui siamo ai margini di Via Po, dove questi rotoli sono stati gettati lungo la scarpata e abbandonati in mezzo a questo piccolo bosco. Ma la situazione peggiore forse è quella di Via Tribolo, dove i vandali hanno fatto rotolare questi rifiuti giù, fino a dentro l'acqua. La posizione di questi scarichi, di questi rotoli scaricati, è una posizione non troppo logica per uno che si voglia solo liberare di materiale che non gli serve più, ma più che altro fa pensare a un atto di vandalismo. Scaricare dei rotoli dentro in un corso d'acqua, farli rotolare, significa proprio voler fare danno. In effetti, chiunque sia il responsabile, non si è limitato a scaricare il materiale in modo irregolare, in una piazzola ai lati della strada. No, è andato oltre. Lo ha fatto ruzzolare volutamente, lasciando che le confezioni si srotolassero per decine di metri, fino a immergersi in acqua. Stiamo parlando di una trentina di rotoli, molto pesanti, messi insieme si tratta di quintali. Chi se ne è disfatto ha realizzato il suo piano nel modo più incivile possibile, creando danni ambientali e rendendo molto complicato anche il recupero. Questa cosa è una cosa che ci ha fatto arrabbiare tantissimo, perché la consideriamo un fatto di spregio, un fatto di vandalismo, e quindi siamo impegnatissimi a trovare le responsabilità e punirli in maniera adeguata.